Alfonso Signorini e la GAF sull'aborto, Selvaggia Lucarelli, parla per te Alfonso Signorini al GF VIP, svela, siamo contrari all'aborto in ogni sua forma Sul finire della puntata di ieri sera del grande fratello VIP Alfonso Signorini ha fatto un scivolone Di cosa si tratta? In pratica Giucas Casella parlando della presunta gravidanza della sua cagnolina, ha rivelato che vorrebbe farla abortire A quel punto è intervenuto Alfonso Signorini al GF VIP 6 Che usando il plurale maiestatis ha ammesso di essere contro l'aborto in ogni sua forma Siamo contrari all'aborto in ogni sua forma, anche quello dei cani non ci interessa Parole che ovviamente hanno fatto finire Alfonso Signorini nell'occhio del ciclone Selvaggia Lucarelli contro Alfonso Signorini al grande fratello VIP 6 Parla per te Sulla GAF di Alfonso Signorini sull'aborto ha espresso la sua opinione anche Selvaggia Lucarelli Di fatti, quest'ultima, in un lungo post pubblicato poco fa su Instagram, ha criticato duramente il conduttore del GF VIP Il quale è rimasto spiazzato dalla confessione di Clarissa Selassie Noi abbiamo votato a favore dell'aborto con un referendum che ha la mia età, quindi fammi questo favore Parla per te e per il tuo corpo, visto che non rappresenti né il paese né il corpo delle donne Selvaggia Lucarelli, la quale è al centro delle polemiche dopo la lite in diretta a Ballando con le stelle con Morgan Ha poi consigliato provocatoriamente ad Alfonso Signorini che invece di dire certe cose al grande fratello VIP dovrebbe dirle a Tutte le donne che sono state costrette ad abortire o che hanno subito stupri GF VIP, Selvaggia Lucarelli e l'affondo Alfonso Signorini, ci mancava solo questo Selvaggia Lucarelli ha poi concluso questo suo lungo sfogo su Instagram asserendo di essere davvero incredula che Alfonso Signorini abbia potuto fare un'uscita simile sull'aborto in un contesto come quello del grande fratello VIP 6 Il moralismo ortodosso urlato al megafono del reality dal conduttore omosessuale Pro-Life, ci mancava solo questo Alfonso Signorini cosa avrà da dire a tal proposito? Risponderà per le rime alla collega